ciao a tutti i televisori benvenuti a questo nuovo video oggi andremo a fare ma mi vedete già stato dato già lo stavo facendo prima fare i muscoli per 24 ore infatti sono troppo troppo stancato un secondo quando pap millenie di vita sono eternato adesso non devo fare perchè da prima volta ho scelto con le donne secco no se 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 no fare se no 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 mamma e zia e di nuovo zia ma perchè voi si... fate scherzo la nocce cosa c'è devi dire bene mi soffa infatti non dobbiamo dare le puno sedati il pugno alla destra piede sinistro questo qua va bene non 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 Sì, ora ho chiesto... Non, non, non... Ho, ne vedo un po'小, ho, 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 ho... Ho, 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 ho... Sì, è stato morto per la danza Non è un ragazzo, non è un ragazzo per la danza Non è un ragazzo per la danza Il è morto. Il è morto. Il è morto. Do the work. Sto in me siano? è una cosa che hai fatto qui ha fatto il mio non, non si no non si no la mia cosa è fatto ah 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 E' un pottini bibi sessoro E' un pottini bibi sessoro E' un pottini bibi sessoro Iscrivetevi al canale e fate esplodere il campanella Ciao ciao, saluto Giuseppe Perrella Francesco Fiumicino E poi anche Sonitina E Michele Caramazzino